Ciao ragazzi sono Falconero e oggi sono qua insieme a Elisia E ciao Per un immancabile scopriamo dedicato a Fall Guys Allora abbiamo già fatto una live in realtà di questo Su un'altra piattaforma che potete rivedere su Extra Falcon Qualora lo vogliate Ne faremo sicuramente altre ma potevamo Privarci di un video come si deve Eh 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 Il commento tecnico sempre più Sempre più tecnico Allora Fall Guys è un gioco senza senso In sostanza ma meravigliosamente divertente In cui è Una sorta di rilettura Di giochi senza frontiere Si Se vogliamo Non le pare devo dire una cosa C'è il nostro personaggio Personalizzabile attraverso degli oggetti Acquistabili con soldi veri a quanto pare Ma anche con crediti di gioco Solo che Che stiamo aspettando Eh che stiamo aspettando Si può giocare in gruppi Lei sta cercando di trovare uno spazio Dica No Dico non le pare Poi dico Poi dici Si può giocare in un massimo Di quattro In un gruppo Insomma se uno volesse fare Una propria squadra Di amici Si può condividere Le speranze di quattro Ma poi Se si perde Gli altri continuano E tu Le mani cadavere Puoi guardarli Puoi guardarli Esatto Quindi Devo dire una cosa Ci dica Sembrano quei costumi Confiabili Perché è tutto lucido Tutto No è vero Che costumi Confiabili Conoscito No Quello arancio E blu O questo O quello Questo non ci ha portato Grande fortuna Io passerei su questo No Vabbè Si 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 Con la gonna Con la gonna Con le mutande Se mai Eh con le mutande La faccia sempre quella Ci mettiamo No No senza Cioè no Non ci piace Però le pantofole Da mostro Le mettiamo Bene Allora Ci sono anche I theatrics Cioè se possono Fa' gesti Il saluto Il saluto Questo Questo E' un guandito Paperito Questo Per chi ci serve Celebration Ma quando mai Ma tanto Ma non celebraremo Mai niente Ma no Questo è Il pass Il pass Battle pass Io voglio il bubble gum Poi ci sono le cose A pagamento Ma noi Non gliele diamo Perché Ci manca solo Che mi metta a pagare La roba dei full guys E invece Quei gettoni viola Si trovano nel gioco I gettoni viola Che loro non vedono In questo momento Giusto 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 Si trovano Abbiamo cambiato tutto Non avremmo dovuto Ecco C'è il gettoni viola Ecco Così Abbiamo 1860 Che non ci compri Manco le babbucce Da mostro Ecco Detto ciò Noi oggi Faremo due partite Una la faccio io Una la fa lei Come sempre 10.000 bottoni Bottoni No No Allora Siamo Allora La struttura È Particolare Cioè si gioca in 60 Se tu fai con L2 E si qualificano E si qualificano Si qualificano Se l'avete in 42 Ma li mortacci No 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 Torna indietro Forza Apri sta porta C tua Sinistra Sinistra Fidati Fidati del falco Occhio di falco Perché ci abbiano Neppre sti livelli Così in fausti Ma li mortacci Io non ce la posso fare Apri sta porta Per Diana Permesso Permessi Così dice Niente È come quando cerchi l'onda verde con la macchina La trovi mai Butta Dico X Allora Abbiamo scoperto un trucco Quando c'è lo slime per terra Ci devi saltare Perché saltando e basta Senza anche il tuffo Prendi il via Se invece ti tuffi Rimani C'ha la pancia pelosa Si vede Il polgai Lo rallenta Che lo rallenta Allora ci siamo qualificati Io posso saltare Ma quando è che esulto Il nostro si sente Si sente figo Ecco Vabbè Con quelle mutande Mi sentirei figo anch'io E quelle scarpe Quelle scarpe Bene Allora Ogni round è casuale C'è diverse sfide Sì Quindi alla tua morte Vado io Alla mia morte Quindi tu dovrai gufarmela Tu che Tu hai Il massimo che hai fatto In live No Due round Ma no Entrambi Uno solo Ti hai sempre perso al primo Complimenti Se c'è il memory Posso farlo Se c'è il memory Sì È un livello molto carino Ragazzi Vedete Sicuramente Ha avuto modo Di vederlo Sì Se hanno seguito la live Allora Adesso si qualificano in 30 Su 41 Quindi 11 moriranno Tra troci sofferenze E 10 passati Io non ho mai fatto Le rule Le rule Le rule Perché me devi in me Perché me agili Guarda che mi si deprime Sì però figo mio Arzate perché Puoi spostare la camera Di camera in su Vai pedoni Ci vostra Carino sto livello Aspetta a dirlo Allora Mo' è tosta Fiducia 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 Io non mi muovo Attento perché si scivola Io voglio Io voglio il tasto Prendi a capocciate L'avversario Eh no Da decimi Bravissimo Da paura Dai 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 Era la capoccia pelosa Che ci rallentava Guarda che secondo me Pesa Tu dici Abbiamo trovato Abbiamo trovato L'estetica giusta Ma io Quella è che faccio Le celebrations Adesso È un modo Per rubare i soldi Alla gente Mettere il Teatrix Poi un Teatrix Una cippa Però Allora Il prossimo livello Aia Oh no Ah no Questo non è difficile Quello con tutti i frutti Tutti 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 frutti C'era anche il bambuso Si parte per primi Dai Io ho fiducia Io ho fiducia Vado dritto Non sempre Sì vado dritto Niente mi colpirà Io lo so Io lo so Che niente mi colpirà Vai vai Eh li mortacci Ripeto Io vorrei farlo Nella realtà Eh ma nella realtà Però sai No No E non salta È un babbeo Spostati Spostati La vaffan Non muro Dove si vede il tempo Che buce La gente C'ha una fortuna Che li mortacci Loro Vai a destra Scusa Ho rosicato Ho rosicato Ho rosicato Ho rosicato 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 Adesso L'hanno fatto fuori Ebbene Cadiamo Cadiamo Ebbene Infine cadde Eh vabbè Allora tocca a te Io voglio uscire Non mi voglio guardare Quello che fa Donate Onestamente Rosicare No Non rosicare No Non ci interessa Non ci interessa Adesso Tocca a lei It's my turn Lei è pronta Vino Hexagon Aspetta Vediamo un attimo Per vedere Come si svolge Vediamo come si svolge Eh così sappiamo Come funziona Aspetta Sì questo non ci è mai capitato Sembra Ah ho capito Mi sa Cadono le pedine Come fai Ah Capitare su quelle che cascano prima No credo che l'obiettivo sia Rimanere il più in alto possibile Cioè muoiono quelli che vanno giù Dici di col buco Lì È una rilettura del buco di Netflix Perché non salta Non di buco Quello che cantava Bravissimo Beh partivo per Twitch Flexi kex Che sarà sicuramente tipo Un'americana scusciata Che fa ASMR Intanto che gioca Fall Guide Che ne so Quando sbrocca Bravissima Non so che sia uomo donna Bravissima Beh questo Abbiamo beccato il fuoriclasse Vabbè adesso però voglio uscire da qui Infatti Nostra falcus Arrivare il fulmine Nostra falcus Abbiamo sblocato Ma no Ah è finito proprio Era l'ultimo round Ha vinto lui Chi rimaneva in piedi Mazzola ho bruciata brutta Eh Mazzola Anche internazionale colpisce La nostra falco Credibile E nostra falcus Mamma mia Sono international Ma come si sbloccano le cose carine Quando gli dà i sordi No Allora Adesso Adesso tocca a te Sei pronta Io voglio il memory Poi tutta sta cosa Per memory Esatto Perché bene Maori per prima Un po' più late Emozionale Ti stanno riproducendo Per osmosi però qua Perché non si capisce bene Quale sia Uomo donna Niente Che che Niente Aspetta Pensi di sia questo Il turno Pensi di aver perso Immigratamente Ecco Hai perso subito Benissimo Sei pronta Ma che pizza Ma perché Mi raccomando Mi raccomando Faccio vedere dall'ansia Sei in seconda fila Io ti metterò tantissima ansia No Tu hai totalmente Catafratto In alcuni momenti Vai Lasciamo E levate No Credici Credici Bravissima Te l'ho detto Che se ci credi Non succede niente Non salta Pe niente al mondo Perché ti rallenta Bravissima Mi merito Un coso No Detta così No Mi merito Un Memory Io non riesco Come farci Alcune volte A prendersi Tutti Di quanto Di quanto Sia ambiguo Ciò che dice Vabbè Esultazione 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 Esultanza Esultanza Questo è come cosa Annunzazione 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 Io voglio questo Far righe No non ce l'abbiamo A righe ci manca C'era uno che era molto carino Che era quello del Niente Ma perché Sempre il peggiore Questo è il peggio Proprio è il più orribile fra tutti Perché te va bene un giramento Da testa e da palle Che leva Sei pronta Te la senti No Dai 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 Crediamo in te Do vai No mi sto stirando Ah beh Fa stretching All'Andreotti Con la gobba Ananas A noi due Presidente Occhio che posso Metterevi pressione Occhio perché Devi saltare Segui il giro Siamo che va così Brava Segui il giro Brava Stupiscici Stupiscici Cosa è Sono te preoccupato Te frega Vai vai Stupiscici Leva di ciliegia Stupiscici Bravissima Bravissima Qua occhio che c'è il buco Brava Vai 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 Bravissima Bravissima Doppia finestra di nuovo Hai preso lo stupide Dai 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 Sì a me Questo si ricrea Davanti a me Bravissima Quella è l'incoglianito Vai che ci sono otto posti Non morire adesso Poi non mettermi pressione Tre posti Ce la puoi fare È tutto tuo Sì L'ultima Sì Dai però Un bel livello Falta eh Stare in video Non in live Ti ha Ti ha rilassato Mazzacca Una fortuna Incredibile La fortuna di 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 Ultimissima Sì Prossimo turno Niente Medesimo destino No Sembrava Avessi dato la frutta Oh Cribbio Oh no È quello che deve evitare Quello che viene su Ti ricordi L'abbiamo fatto in live L'abbiamo visto in live Arriveranno delle cose Che devi evitare Devi rimanere sulla piattaforma Che ansia Vero Non cadere L'obiettivo è non cadere Levate? Grazie Ah ho capito Già un eliminato Come fai ad essere già stato eliminato Ti devi buttata solo Per essere eliminato adesso Ecco In centrale Gli gestisci un po' Almeno quando ci sono Le volte in cui Propende Troppo da una parte Troppo dall'altra Perché sei saltata prima Non so Che fa piatta all'ansia Bravo Oh Bravissima Mamma mia Avanza un po' Lì Non si è saltata prima Bravo Bravissima Pari bravissima Nooo Nooo Mi hanno trascinato giù Carino però Ho rosicato Quanti Quanti ne stanno uscendo Ah da pazzi proprio Era su ultima fase Guarda che roba Ti è Vabbè ma quindi Quanti ne passano Pochissimi Carino Ah ecco ci hanno fatto Secchissimi Vabbè niente Ragazzi siamo Siamo usciti Anche questa volta Però abbiamo livellato Almeno al 3 dai No Non penso Il livello è troppo Cioè la progressione Molto molto lenta E compassata Ragazzi Per adesso Questo è quanto Fateci sapere Cosa ne pensate Vi ricordo Che sapete Il PlayStation Plus For Guys È gratuito Questo mese Qui approfittatene Altrimente Sulle altre piattaforme È a pagamento Noi ve lo riporteremo Sicuramente In live Sull'altra piattaforma Ma se volete Anche qui Attraverso i video registrati Fateci sapere Ragazzi Noi per adesso Vi mandiamo un abbraccio E vi diamo appuntamente Alla prossima Ciao